A 52 anni si è trovato senza un lavoro e un futuro, poi la difficile risalita e la dignità riconquistata tra i macchinari del servizio Cesea dove ha giusta falciatrice e trattorini. Gianni Cremella è di poche parole ma grazie alla sua abilità sarà lui il maestro senior del nuovo progetto Pronto Partire che prevede il reinserimento lavorativo di 11 persone over 50 con il sostegno del consorzio DOC Ricambio Originali. Un contributo economico mensile per l'integrazione sociale e quanto riceve chi presta la propria opera presso il servizio Cesea e ma nazione del comune di Lecco ora sarà lui ad aiutare gli altri. Titolare di un'autofficina a Garlate nel 2010 quando aveva 52 anni appunto decise di venderla ma l'acquirente sarebbe scomparso senza onorare le cambiali e lasciandolo con alcuni debiti. La caduta, la depressione e ora a 60 anni la risalita. Mi sono trovato in difficoltà e ho conosciuto il signor Tore, mi ha assunto qua nel suo capannone a riparo in mezzi agricoli con un piccolo contributo da parte del comune. Lei si è trovato a 52 anni senza la pensione, senza ammortizzatori sociali, senza la disoccupazione, a doversi in qualche modo reinventare e chiaramente è caduto in depressione. Che cosa ha significato per lei Cesea? Un modo per riprendermi, per tirarmi su, per non pensare a quello che mi è successo. Adesso mi trovo bene, anzi mi hanno dato una mansione abbastanza importante. È tutto qui. Di cosa si occupa qui? Riparo i rasa erba, i decespugliatori, i trattori e i mezzi del comune. Non è tanto per le poche centinaia di euro che riceve in cambio? No, assolutamente. È un modo che offre questo servizio per la gente in difficoltà, non solo finanziaria ma anche emotiva. Siete un po' una famiglia qui? Diciamo di sì, siamo una famiglia, andiamo tutti d'accordo. Diventerà capo progetto dell'iniziativa promossa con le concessionarie d'auto. 11 persone che come lei hanno più di 50 anni e si sono trovate in difficoltà inizieranno a lavorare qui per riparare i mezzi agricoli di Cesea, anche per fare il lavaggio delle auto e lei coordinerà questo progetto. Beh, così ho sentito dire. Un bell'impegno? Beh, diciamo di sì. È gratificante più che altro. Che cosa ricorda dei momenti difficili in cui ha perso la sua attività e in cui pensava che non fosse più possibile un futuro? Meglio non ricordare. Non mi faccia venire in mente che è meglio non ricordare. Adesso è tutto diverso? Totalmente diverso. Ho ritrovato la voglia di lavorare, di fare tutto. Ha 60 anni però dovrà andare in pensione prima o poi? Beh, spero.